Quali sono le fasi più importanti che devi tenere a mente durante il lancio di un prodotto? Ne parlo in questo video. Ciao, io sono Noemi di Blank e in questo video ho deciso di affrontare quali sono le quattro fasi indispensabili per il lancio di un nuovo prodotto o servizio all'interno del mercato. Questa è una delle fasi più sfidanti per il lavoro di un marketer perché determina il successo o meno dell'azienda che sta seguendo. Generalmente nella maggior parte dei casi si parla di tre importanti fasi ovvero quella di prelancio, di lancio e di post lancio. Siccome noi con Blank abbiamo sempre promosso l'idea di una strategia long term in grado di fidelizzare la nostra base utente quindi dei clienti che ci seguono, di un gruppo di persone fidelizzate ai valori e all'offerta di valore che siamo in grado di offrire come azienda addirittura noi consideriamo anche come citato molte volte da Luca Mastella quattro fasi ovvero quella di pre prelancio, prelancio, lancio e post lancio. Ma in cosa consistono queste fasi? Allora innanzitutto è molto importante sapere che prima di incominciare a immaginare il lancio di un prodotto o di un servizio all'interno del nostro mercato di riferimento è necessario che noi abbiamo già verificato che esiste il product market fit come parlo anche nel mio video dedicato proprio a questo argomento specifico ma soprattutto è importante che noi conosciamo benissimo il target a cui ci andiamo a riferire conosciamo le sue esigenze e individuiamo in modo assoluto la nostra Unic Selling Proposition ovvero il motivo per cui il nostro target dovrebbe essere interessato all'acquisto della nostra offerta innanzitutto quindi conoscere questo gruppo di persone, interagire con loro, creare una base di relazione e fare in modo che su di loro potremo contare soprattutto nell'acquisizione degli innovators e degli early adopters che sono come vedremo un attimo più avanti sono gli elementi indispensabili per il successo di un lancio di un prodotto o di un servizio nel mercato ma andiamo con ordine quindi abbiamo detto che nel pre-pre-lancio noi dobbiamo dare valore e fidelizzare la community, il nostro target o comunque i clienti che interagiscono sulle nostre piattaforme sia web, sia online che offline e creare una relazione di fiducia la relazione di fiducia predisporrà già i nostri utenti all'ascolto rispetto alle offerte che andremo a proporre la relazione di fiducia si costruisce quindi restituendo valore dando valore anche gratuito quindi magari informazione, intrattenimento, offerte insomma qualsiasi sia la forma di business che deve interagire con la propria utenza ebbene nella fase di pre-lancio si instaura la relazione in questa fase in cui si instaura la relazione si cerca anche di sondare il terreno rispetto ai loro bisogni rispetto all'anticipazione di quello che sarà poi effettivamente il lavoro di pre-lancio entrare nella fase di pre-lancio è una delle fasi più delicate perché è una fase di teasing dove andremo a incominciare a fare delle piccole introduzioni rispetto al lancio di questo prodotto o servizio e incomincieremo a predisporre anche un'aspettativa quindi a far crescere le aspettative ad anticipare dei bisogni, dei problemi che andremo a risolvere con la nostra offerta di valore in questa fase noi stiamo predisponendo il pubblico fino ad arrivare a un impianto, magari un funnel un sistema per lanciare il prodotto che parte da una pre-iscrizione da un avere magari un'offerta principale se si è fra i primi che ci si iscrivono garantire quindi a, in una fase anche di pre-pre-lancio, magari una pre-iscrizione che farà in modo di garantire determinati benefici ai primi che saranno quelli che poi fungeranno, come vedremo successivamente, da social proof per raggiungere un numero maggiore di persone nel momento in cui il lancio effettivamente viene generalmente a una durata variabile perché in questa fase dove si raccolgono gli utenti, dove si attivano perché noi abbiamo una serie di utenti che potrebbero essere interessati al nostro prodotto o servizio e noi andiamo ad attivarli attraverso una serie di azioni quindi magari con delle landing page, con delle sponsorizzate con raccogliere delle mail e tenerli appunto informati appena si apriranno le vendite quindi appena ci sarà il lancio e poi dando valore, anticipando quello che andiamo a fare e quant'altro il lancio è il momento dove andremo a raccogliere questi frutti quando ci sarà il lancio generalmente ha una durata variabile che va dai tre giorni a una settimana sono delle durate variabili che chi fa questo tipo di lavoro deve studiare e testare perché ogni mercato di riferimento, ogni prodotto, ogni servizio ha delle regole a parte che guidano quelle scelte di mercato tuttavia sicuramente diciamo tre giorni di lancio è una strategia abbastanza efficace perché fa leva anche sul breve tempo quindi se una persona sa di avere un tempo potenzialmente infinito per l'acquisto di un tale bene molto probabilmente rimanderà quella scelta sapere di avere poco tempo velocizzerà i processi di acquisto e sicuramente farà in modo che si possano concretizzare ora in questa fase di lancio è molto importante che noi andiamo a raccogliere quello che ne abbiamo costruito nel pre pre lancio e nel pre lancio ovvero il rapporto di fiducia con l'utenza con cui c'è stato una restituzione di valore perché? perché dobbiamo assicurarci la partecipazione degli innovator gli innovator sono praticamente una fetta di utenti di una fetta di target diciamo nel nostro mercato che sono predisposti da subito a sperimentare le novità per cui sono i primi che quasi immediatamente sulla fiducia faranno l'acquisto subito dopo gli innovator avremo gli early adopter che sono appunto quelli che per primi cioè indipendentemente dal fatto che sono attenti alle novità del mercato ma proprio sulla scia di un rapporto di fiducia long term e quindi di acquisizione di valore da parte del brand di riferimento quindi per condivisione proprio del sistema di credenze e perché sono stati attivati durante le fasi successive acquisteranno per primi il prodotto perché questo è un momento cruciale? perché è il momento che ci permette poi di penetrare il mercato perché una delle leve più forti per riuscire a ottenere la crescita comunque il successo del lancio di un prodotto è la social proof poter dimostrare che altre persone hanno acquistato il nostro prodotto e sono trovate felici per noi è l'elemento di svolta per far moltiplicare questi numeri iniziali e quindi è molto semplice è molto consigliato non è molto semplice è molto consigliato che i primi acquirenti siano invogliati attraverso una serie di tecniche di marketing oppure un sollecito via mail o l'offerta di qualche servizio aggiuntivo di qualche garanzia in più invitarli a lasciare le prime recensioni queste prime recensioni serviranno poi per agganciare l'early majority e la late majority che sono la maggior parte delle persone che acquisteranno da noi la nostra offerta, la nostra proposta di valore e lo faranno sulla scia della social proof ovvero la verifica che quel prodotto è già stato acquistato da altri che si sono trovati bene e che sono soddisfatti di quell'acquisto una cosa molto importante fino poi naturalmente ad arrivare all'aggards che sono i ritardatari che sono gli ultimi che solamente quando una cosa è uscita è stata approvata da un milione di persone e tutti ne parlano bene l'eco ha raggiunto una grossa portata sia i social che il sito che la pubblicità poi dipende quali sono i piani comunicativi di ciascuna azienda a quel punto loro sono gli ultimi generalmente l'early majority e la late majority sono la fetta più grande di acquirenti mentre innovator, early adopter e laggards sono diciamo il numero minore ma assolutamente soprattutto i primi due estremamente significativo per il successo di un lancio del prodotto servizio nel mercato quello che è molto importante è non tralasciare il post lancio perché non è che la vita di un'azienda si conclude all'interno di una sola vendita ma bensì è necessario restituire la valore è molto importante che nel pre pre lancio i toni siano anticipatori sereni, pacati, c'è tempo stiamo incominciando a dare qualche spunto stiamo preparando la relazione di fiducia rispetto a quello che sta per succedere pre lancio entriamo concretamente nell'azione strategica quindi ci si iscrive si entra in una lista d'attesa si fa un'azione effettiva per prepararsi a quello che sarà il momento del lancio vero e proprio quindi in una prima fase sicuramente nel pre pre lancio i toni sono calmi nel momento dell'attivazione i toni diventano più incalzanti fino al momento in cui siamo più vicini al lancio in cui il tono si alza tantissimo allora magari anche la quantità di mail che vengono inviate per alimentare la partecipazione degli utenti all'iscrizione o comunque all'attivazione che abbiamo previsto nella nostra strategia di marketing i toni quindi diventano più caldi più rapidi, più intensi perché bisogna spingere l'utente a fare la decisione a iscriversi, lasciare la mail a pre ordinare il prodotto che sarà lanciato eccetera 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 il lancio è il momento clou il momento in cui dobbiamo dare tutte le nostre energie le nostre risorse per far sì che si concluda con successo queste tre giorni di lancio quindi durante il lancio vengono condivisi man mano i feedback dei primi acquirenti vengono condivise le soddisfazioni e i feedback positivi ecco insomma le restituzioni positive rispetto al prodotto o servizio che abbiamo offerto con le testimonianze sottolineiamo il principio di scarcity e urgency quindi magari diciamo fra 24 ore ti chiuderà l'opportunità di poter acquistare è molto importante che se noi diamo una scadenza temporale al lancio è molto importante che le promesse fatte durante il lancio vengano mantenute se noi ci sbilanciamo a dire abbiamo fatto il lancio oggi non ci sarà un nuovo lancio per un anno è assolutamente indispensabile che non ci sia per cui valutate anche da adesso nel momento in cui fate il lancio la strategia successiva perché mantenere l'affidabilità e la fiducia con le persone con cui avete stretto la prima relazione è fondamentale perché non dovete mai rompere questo legame di affidabilità e di fiducia perché sono la base utente più solida che vi sosterrà nei lanci dei prossimi prodotti e soprattutto i fungeranno da social proof altra cosa indispensabile se avete promesso un prezzo a cui non potranno più accedere quelli che hanno magari acquistato in formula early bird è molto importante che non ci sarà modo altrimenti di riceverlo a quello stesso prezzo a meno che non ci sia un nuovo lancio eccetera eccetera quindi abbiamo detto clima altissimo tensione altissima urgency scarsi di tutte queste azioni magari nel momento del lancio più mail anche nei tre giorni quindi anche due mail al giorno tranquillamente sono concesse post lancio c'è una fase di chill nel senso dobbiamo calmare dobbiamo mettere a proprio agio chi non ha fatto l'acquisto ma dobbiamo anche rivolgerci a chi invece ha inquistato continuare a dare valore a chi ha acquistato perché non diamo la sensazione di aver arraffato le vendite prendi soldi e scappa ma diamo valore e continuiamo a essere presenti nella vita insomma nell'esperienza utente della persona che ha acquistato il nostro prodotto servizio quindi domandandogli come si sta trovando se ci vuole lasciare dei feedback garantendogli assistenza garantendogli una garanzia quindi magari proprio dell'utilizzo del prodotto magari attuando dei suggerimenti di cross selling o up selling è molto importante durante il lancio del prodotto soprattutto se non si parla di un'azienda monoprodotto fare anche in modo di integrare altri prodotti che sono presenti nel nostro catalogo in modo tale da creare dei pacchetti che possono essere anche da traino rispetto alla sperimentazione della nuova proposta di valore che stiamo offrendo è molto importante quindi seguire il post lancio perché noi dobbiamo coltivare la nostra utenza indipendentemente dalla fase di climax dove dobbiamo proporre il nostro prodotto ma costruire questa relazione di fiducia nel tempo costantemente per cui dare assistenza dare valore anche dopo che si è acquistato significa far sentire importante significa dare spessore a questa relazione che noi nella fase di pre-lancio e di pre-lancio abbiamo voluto costruire con tanta dedizione ma anche dedicarci a chi non è riuscito ad acquistare perché quelle persone che sono arrivate fino a quella fase del funnel sicuramente saranno molto più predisposte a una successiva proposta a un successivo lancio rispetto a qualcuno che non ha mai sentito parlare prima di voi per cui quelle persone vanno coccolate gli va dato valore sono delle grosse opportunità magari per svolgere delle piccole serve delle piccole indagini e scoprire le motivazioni che non gli hanno fatto scegliere propendere quindi per l'acquisto che sono magari delle motivazioni economiche delle motivazioni di contingenze magari temporali oppure di non disponibilità di quel momento o semplicemente di non interesse verso quel prodotto quindi se c'è qualcosa che possiamo migliorare insomma avere l'opportunità di ascoltare i feedback della nostra base utenza è una delle opportunità migliori e soprattutto bisogna dare attenzione al nostro pubblico non soltanto quando lo bombardiamo di messaggi compra, compra, compra ma anche soprattutto dopo perché come non mi stancherò mai di ripetere il marketing è l'arte di coltivare delle relazioni long term fra l'azienda e i suoi utenti per ora è tutto spero che questo possa essere utile se ci sono delle domande o delle esperienze che ti va di condividermi non ti resta che scrivere come al solito sarò molto felice di risponderti alla prossima